Tanto rispetto, ma nel senso proprio di ammirazione, proprio per il giugno, che è un ricordo bellissimo, non mi ringrazio, ma mi è abbastanza. Ma il nostro vuole essere, a conclusione, un ruolo, la produzione di un documento che dice guardate che questa persona può essere tranquillamente additata e mostrata ai nostri giovani, che magari si raccapricciano in una situazione, mentre invece pensare in grande si può andare sicuramente utile. Non vi muovete, scostatevi da quest'altro lato, facciamo una foto su qui. Scusatevi, scostatevi da quest'altro lato, facciamo una foto su qui.